professore io voglio parlare con lei di questa legge elettorale ma non sarebbe meglio parlare di donne parliamo di donne però a me piacciono le belle donne completamente dimenticato perché anche a me siamo nella stessa condizione però mi dica una cosa ma stanno facendo una legge per eliminare il porcellum ma come vogliamo chiamare questo perché italicum ormai non è più maialinum maialino grazie vieni un po qua allora fammi capire ma che sta succedendo dentro la democrazia cristiana e che ce n'ha mai andata la democrazia cristiana no no io ti ho battezzato tu sei democristiana invece pensa un po i miei nipoti non sono né battezzati né cresimati allora dimmi una cosa ha fatto a primarmi chi ha fatto dimmi una cosa ma commuove di renzi io ho votato a civano hai votato a cuperlo è proprio sparito no no si è conservato sotto il tavolo no no ma che mi dici che mi dici questa legge elettorale come andremo a finire non lo so spero bene guarda perché l'ultima è l'ultima battuta ma dicono che è una storia questa che l'ultima battuta detto il peggio non è mai finito c'è sempre il peggio ma perché quelle che fa analisi oggi che si può analisi fatta da quel sotto del battaglio e quell'altro senti ma tu mi hai detto sei stata rivoluzionaria no eh vedi un po l'altro po co togliati eh quando ha preso il caffè albano ecco ma mo a rifareste la rivoluzione ma questi che stanno vedi e poi arriva 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 il bambone albòia albòia mangiare tradimento ha capito senti quello che ha fatto 50 volte quel sozzo senti un po ma ma coso ma come si chiama la quello che prima eravate innamorato di quanto saluta più cilipoti cilipoti ho innamorato con cilipoti perché quando ha saputo che ero da sinistra ma manco più risposta affrascati va forte cilipoti ma tu lo sai che la sinistra è finita no no buona scilipoti va forte affrascati nannare ecco